Terminio motori, emozioni su strada, Viale Italia Avellino. Come quello che abbiamo trovato, siamo riusciti a sentirci quasi a casa. Con queste poche righe vorremmo ringraziare tutti gli angeli dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, che nella notte tra l'11 e il 12 luglio, collaborando con professionalità e umiltà e con grande pazienza, hanno preso in custodia e hanno curato, cullato con dedizione, facendo rinascere a nuova vita il nostro piccolo Davide. Così comincia la lettera che una giovane coppia ha voluto scrivere in segno di gratitudine verso tutti quei professionisti dell'azienda ospedaliera Moscati, che hanno contribuito ciascuno per le proprie competenze a salvare la vita dell'unico figlio, un bambino di soli 13 mesi. Davide vive con i genitori in Svizzera, si trovava in Irpinia, presso la casa dei nonni, mentre giocava, saltando sul letto e caduto, sbattendo la testa contro il margine del comodino. Trasportato al pronto soccorso della città ospedaliera, è stato sottoposto immediatamente a tutti gli accertamenti del caso. Dall'attacca emersa la formazione di un importante ematoma epidurale, il bambino già manifestava una progressiva perdita dello stato di coscienza e un trasferimento al Santo Bono di Napoli, ospedale specializzato in chirurgia pediatrica, avrebbe comportato tempi troppo lunghi, mettendo seriamente a rischio la vita del piccolo. Per i medici dell'azienda Moscati, solo un tempestivo intervento avrebbe scongiurato il peggio. Davide è stato portato in sala operatoria, al tavolo, i neurochirurghi Maurizio Maiulo e Ines Di Muccio, e gli anestesisti Angelo Storti, Raul Vincenti e Felice Ferone. L'intervento, racconta Maiulo, è durato più di due ore. L'ematoma epidurale è stato rimosso praticando uno sportello nel cranio del bambino, dove poi è stato inserito un drenaggio. L'operazione è perfettamente riuscita. Il piccolo è stato dimesso dopo aver trascorso qualche giorno prima in neonatologia, accudito dal responsabile dell'unità operativa, Lucia Matucci, e dal suo staff, e poi in rianimazione, in una camera appositamente riservata. Se non fossimo intervenuti subito, conclude Maiulo, sono certo che non ce l'avrebbe fatta. Per tutta l'equip coinvolta è motivo di grande soddisfazione avere la consapevolezza di essersi assunta delle grandi responsabilità, ma di essere stata ripagata dall'aver donato a Davide un'aspettativa di vita lunga salutata dal suo indimenticabile sorriso.